Finisce 1-1 il recupero della 24esima giornata di eccellenza tra l'Aquila e Delfino Curi-Pescara. La cronaca si apre dopo 30 secondi con un tentativo ospite, Gobbo dalla media distanza mette alto. L'Aquila risponde al sesto di Ruocco Serve Massetti che dai 20 metri scarica una botta secca che scuote il palo. Ancora il rosso-blu in avanti al decimo Massetti per la testa di Sciba l'incornata del 9 si spegne tra le braccia di Calore. Occasionissima l'Aquila al diciottesimo corner che filtra tra le maglie difensive della Delfino Curi-Colombatti da ottima posizione sciupa tutto tirando addosso a Calore. I padroni di casa spingono 24esimo di Ruocco in transizione offensiva si presenta tu per tu con Calore. Il portiere ospite è bravissimo a chiudergli lo specchio della porta. Dopo un tiro di Peic, respinto in allungo da Calore, la gara si sblocca al minuto 33. Di Norcia Arpiona un pallone appena fuori l'area di rigore conclude, il pallone bacia il palo e poi si insacca in rete. La frazione va in archivio con una sortita offensiva della Delfino Curi di Giovacchino, chiama De Chirico alla parata bassa. Secondo tempo, ritmi meno alti e per trovare il primo spunto di cronaca bisogna arrivare al 25esimo. Punizione da destra battuta da Massetti, colpo di testa di Colombatti smanacciato in calcio d'angolo da Calore. Tre minuti dopo l'Aquila rimane in dieci tempestilli, Giammonito commette fallo su Di Stefano. Arnese di Teramo non ha dubbi, secondo giallo e rosso per il difensore rosso-blu. Al 35esimo la Delfino Curi perviene al pareggio, traversone di Di Stefano dalla sinistra, Pastorini svetta centro area e Di Testa infila alle spalle di De Chirico. Nel finale Saurino di testa segnerebbe il gol del 2-1 per l'Aquila, ma la segnatura viene annullata per una spinta del numero 11 rosso-blu ai danni di Palmisano. L'ultimo sussulto del match è un contatto dubbio nell'area della Delfino Curi, il direttore di gara facendo di proseguire il gioco. Finisce dunque così, domenica l'Aquila sarà di scena Giulianova, mentre la Delfino Curi Pescara ospiterà la Torrese. La squadra oggi, soprattutto nel primo tempo, ha fatto un'ottima impressione, poteva chiudere sul 4-5 a 0. Abbiamo fatto un gol e nell'unica azione, tra l'altro su palla inattiva, il Delfino Curi Pescara ha pareggiato. Quindi è un pareggio che sta tanto di beffa, molto amaro perché, ripeto, la squadra soprattutto nel primo tempo, almeno per quanto mi riguarda, mi è piaciuta tantissimo e avrebbe meritato di concludere la prima frazione del gioco con qualche gol di scarto. Purtroppo non ce ne va bene una. Comunque voglio dire anche che il risultato è stato condizionato anche dalla pessima direzione arbitrale, perché non penso proprio che il secondo fallo di Tempestilli era da munizione. E quindi l'espulsione, avendo giocato gli ultimi 20 minuti, avendo pochi cambi, purtroppo, date le defezioni che ci sono in questi ultimi tempi, abbiamo subito questo gol. Però dobbiamo vedere la prestazione, ripeto, che soprattutto nella prima frazione del gioco, per me è piaciuta tantissimo. Se il primo tempo finisce 4-0 non c'è niente di strano. È un periodo che l'Aquila non gira bene, come ho visto anche domenica scorsa. Ma quello che mi sento di dire è di fare i complimenti alla mia squadra, perché non so se avete visto la distinta, l'anagrafica dell'età dei ragazzi. È come se avessimo giocato Juventus-Ponte d'Era. Abbiamo fatto un'impresa, siamo contentissimi. Questo è il risultato dello spirito che c'è, del gruppo che siamo, di come lavoriamo. Infatti mi sento di ringraziare anche lo staff, perché avendo giocato domenica e mercoledì questa partita, atleticamente siamo bene. Siamo bene, abbiamo corso fino al 95esimo, quindi non mi sento di dire che abbiamo pareggiato per dei meriti dell'Aquila. Secondo me siamo stati bravi a creare subito un'occasione, subito dopo il rosso. C'è stato subito, dalla punizione che è scaturita dopo il rosso, c'è stata questa occasione dove il pallone è uscito di millimetri. E secondo me quella è stata un po' la svolta, perché comunque anche quando hai giocatori di questa caratura in campo, come Colombatti che io conosco perché ho fatto il ritiro notoresco con lui, quindi lo conosco bene, Brunetti, c'è giocatori che con questa categoria non c'entrano niente, però psicologicamente anche in grandi giocatori alla fine subentra la paura di perdere, soprattutto come sta andando nelle ultime settimane, quindi secondo me sono fantasmi che piano piano si ripresentano e ripeto, io faccio soltanto i complimenti ai miei perché crederci in questo stadio contro una squadra del genere non è da tutti.